Oggi andremo a parlare di BBVA che è un conto corrente online da poco arrivato in Italia che sta praticamente facendo tantissimi tantissimi nuovi membri italiani tra cui c'è anche la pubblicità in tv e si stanno espandendo in Italia davvero in modo incredibile Questa è una banca spagnola e in particolare ci sta offrendo un bonus iniziale davvero molto molto interessante e anche per questo bonus io ho deciso di crearmi un account quindi ho deciso di crearmi un conto con loro per ottenere appunto questi benefici ma in questo video vi parlerò un po' di BBVA e soprattutto vi parlerò di questi bonus e entrerò nello specifico spiegandovi effettivamente come funzionano Io sono Ezpo e vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al mio canale se vi piacciono questi video a tema finanza e mi raccomando ragazzi lasciatemi anche un commento che è tutto totalmente gratuito Voglio essere onesto con voi, ho creato, ho fatto un conto con BBVA semplicemente per ottenere questo bonus ma in realtà utilizzando poi la loro piattaforma e la loro app mi rendo conto che effettivamente è veramente fatto bene quindi di conseguenza ci penserò su se chiudere oppure no il conto con loro ma andiamo con ordine e prima di tutto vediamo effettivamente che tipo di bonus ci danno ed ecco qui appena entriamo nella pagina di BBVA andando nella sezione cashback possiamo vedere che abbiamo la possibilità di aprire un conto con loro e ottenere un cashback del 20% fino a un massimo di 100€ ok? Questo ci fa capire veramente che stiamo parlando già di un bonus non indifferente nel senso che ci basterà utilizzare quindi la loro carta per ottenere di un cashback di ben il 20% quindi recuperiamo subito un bel 100€ e ce lo intaschiamo all'interno del conto di BBVA quindi già qui è assolutamente un modo per accapararsi i clienti e sicuramente anche un buon modo per gli utenti per accapararsi un po' di soldini per ottenere questo cashback non ci basterà altro che fare la prima operazione con la carta che ci viene fornita da loro e automaticamente in quel primo mese che utilizziamo la carta su ogni operazione che faremo ci verrà praticamente dato il 20% indietro e si caricherà di nuovo il nostro conto di BBVA veramente veramente ottimo inoltre dopo il primo mese ci verrà dato il cashback di 1% che è molto poco però insomma nessuno ti dà la possibilità di fare questo e quindi secondo me è da premiare BBVA per la sua iniziativa e di conseguenza per tutto l'anno ci verrà dato poi successivamente l'1% di cashback sul loro conto quindi noi l'unica cosa che dovremmo fare è proprio quello di utilizzare il loro conto e la loro carta che tra l'altro il loro conto è totalmente gratuito quindi assolutamente io consiglio di aprirlo e consiglio di fare questi bonus per aprire il conto di BBVA è veramente facilissimo infatti proprio come dice qui bastano 5 minuti e effettivamente ragazzi una volta che completiamo il check di documenti automaticamente dopo pochissimi minuti sono già riuscito a fare il login avevo già un numero sul conto e avevo già la mia carta di debito sia virtuale e l'avevo anche ordinata fisica e mi è arrivata dopo pochi giorni io veramente veramente non me l'aspettavo e oltretutto non finisce qui con il bonus infatti vi faccio vedere che chi si registra con il link referral che vi metto qui in descrizione ha un ulteriore bonus di 20 euro quando si iscrive ok quindi oltre già al grand cashback che ci dà il totale di 100 euro guadagnati se appena ci iscriviamo inseriamo un codice referral che vi ripeto metto qui nella descrizione del video otteniamo altri 20 euro gratuiti all'interno del nostro conto che fanno già un totale di 120 euro in più abbiamo la possibilità di invitare i nostri amici e ogni amico che invitiamo otteniamo altri 20 euro è veramente una promozione da non perdere secondo me dovete approfittarne assolutamente subito lascio i link e i codici nella descrizione ok questa quindi è la panoramica all'interno del nostro account vi faccio vedere qui abbiamo praticamente possiamo vedere che in fase di registrazione se inseriamo in modo corretto il codice ecco qua riceveremo i primi 20 euro di benvenuto e per ricevere basterà semplicemente effettuare una prima operazione con la carta che ci danno loro molto semplice successivamente poi abbiamo il grand cashback del 20% quindi recuperiamo altri 100 euro e ancora successivamente poi abbiamo l'1% di cashback per i prossimi 12 mesi che comunque è una cosa aggiuntiva e sono anche altri soldi che andremo a recuperare anche se sono pochi effettivamente ma è tutto in più assolutamente e in più abbiamo anche il passaparola dove ogni persona che invitiamo ci danno ben 20 euro e chi si iscrive con noi ha 20 euro quindi è anche agevolato a iscriversi con il vostro codice referral insomma questo è il mio codice referral vi invito a iscrivervi a BBVA per ottenere questo fantastico bonus da 20 euro totalmente gratuito e vi invito poi a fare il grand cashback e ottenere altri 100 euro quindi subito istantaneamente riceverete 120 euro di bonus non istantaneamente scusate ma comunque utilizzando la loro carta otterrete un cashback del 20% quindi è tutto di guadagnato insomma ragazzi questo era il bonus di BBVA veramente veramente niente male io l'ho fatto soprattutto perché siamo propensi praticamente alle vacanze estive di conseguenza è il momento giusto di prendersi un po' di cashback recuperare un po' di soldini e di conseguenza BBVA ci viene veramente in aiuto con questa fantastica promozione io vi invito quindi di iscrivervi il link lo lascio qui nella descrizione con il mio codice da inserire in fase di registrazione vi ringrazio per aver visto tutto il video qualsiasi domanda vi invito a farla qui nei commenti vi risponderei io personalmente vi invito a iscrivervi al mio canale per voi è totalmente gratuito a me aiutereste veramente molto a crescere qui su questa piattaforma io vi ringrazio per aver visto tutto il video e ci vediamo presto al prossimo ciao ragazzi